3 anni che faccio ciclismo Sono 5 anni che faccio questo sport e mi piace molto 3 anni 7 anni Un anno Con questo 8 All'incirca un anno Perché lo faceva anche il mio papà e ho deciso di provarlo Mio padre mi ha smesso questa passione e poi mi è piaciuto tantissimo Perché io lo vedevo da 2 anni il ciclismo alla televisione, vedevo il Tour de France e poi il mio papà lo faceva Perché mi piace andare in bici A me mi ha appassionato il ciclismo da quando vedevo da piccolo le gare che passavano davanti a casa mia Poi andavo sempre in bicicletta dai miei nonni Insomma è una grande passione per me sin da piccolo Perché mio nonno correva e hanno cominciato anche mio babbo e mio zio Mi piace tutto il ciclismo Delle gare, stare in gruppo, in salita, andare da soli Sono tutte belle emozioni A me piace andare in fuga perché sono le mie caratteristiche Mi piace andare in bicicletta La velocità e la salita A me piace andare in bicicletta Grazie.